Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta, la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appelarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Amici, prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, disservilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appelarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. La bandiera della pace da oltre vent'anni è presente a Cesara davanti alla chiesa sul campanile. Da questa mattina però sono accese le luci ed è aperta la chiesa di Cesara. È un gesto significativo di pace e di accoglienza, perlomeno spirituale, questo da Renato. Della guerra si parlava e purtroppo la guerra è arrivata. Sì, credo che io, ma tante altre persone, i miei confratelli preti, credenti, non credenti, i miei parrocchiani delle mie parrocchie, davanti alla guerra siamo senza parole. Questa bandiera era nata con la guerra in Afghanistan, poi l'abbiamo valorizzata quando sono venuti i nostri amici dell'Iraq, poi con Sarajevo, quante tragedie. Adesso sembrava impossibile pensare che nel cuore dell'Europa si scegliesse ancora la follia della guerra. In questo momento forse molti si aspettano parole di speranza che non sono facili. Allora continuiamo il lavoro di denuncia, di dire no alla guerra, no alla corsa agli armamenti. Ci torna in mente in questo momento anche la prima guerra mondiale, spesso evocata e ricordata, nella quale sparì letteralmente un'intera generazione di giovani italiani. Anche allora nessuno voleva la guerra. Noi dobbiamo chiudere il capitolo guerra e dire la guerra non ha diritto di essere, la nostra Costituzione addirittura la ripudia. Allora non possiamo lasciarci travolgere in questa spirale di guerra, a prescindere da tutto. Quando è scoppiata la guerra a Sarajevo, noi allora stavamo dicendo sempre guai se la guerra si espande nella ex Yugoslavia, guai se la guerra arriva a Sarajevo. E il ministro di allora degli esteri italiani diceva I soliti pacifisti che vedono la guerra dappertutto, tre giorni di tempo la guerra è finita. Ecco, io voglio sperare, anche se un frate francescano a Sarajevo mi diceva siamo nel 92, poi finisce nel 95 con gli accordi di Dayton, la guerra è come un treno, quando parte non riesci a fermarlo e non riesci a scendere. Dio ce ne liberi. Eccoci qua, ben trovati ancora una volta. Ho voluto iniziare con l'invito di Papa Francesco per iniziare la Quaresima nel digiuno, nella preghiera. Sto registrando la sera di giovedì 24 e abbiamo mandato il servizio con le interviste che mi ha fatto proprio qui la mattina del giovedì 24 Vincenzo Amato, mandato nel Tg del nostro Televcio. È stata una giornata davvero dura e faticosa all'inizio di questa giornata, appena sveglio, quando ho aperto la chiesa e ho pregato con tante persone simbolicamente e virtualmente, come si dice, spiritualmente, dall'Ucraina a tanti altri luoghi, alla parrocchia. Pensavo di non dire niente, poi invece è stata una giornata dove sei costretto, magari un po' controvoglia, a dire delle cose, appunto con interviste, perché molti ti chiedono. Qualcuno, come sempre, provocatoriamente dice beh, allora adesso che è scoppiata la guerra non dici niente, ecco, vedi, bisogna armarsi, perché come facciamo a difenderci da Putin? Allora abbiamo fatto bene a fare gli F-35, abbiamo fatto bene a spendere per le armi e dobbiamo difenderci perché, cosa dire di fronte a queste situazioni, dobbiamo davvero fermarci e ragionare e non lasciarci travolgere dalla follia della guerra. Io ho iniziato la giornata sentendo appunto in Ucraina alcune persone, la disperazione, il pianto, la paura. Questa è la guerra, l'abbiamo già vista, almeno io mi limito la mia piccola esperienza, quello che è stato Sarajevo quando eravamo andati nel 92, poi gli anni successivi, l'Iraq, quante volte ne abbiamo parlato, la guerra è quella roba lì, dove si muore, dove c'è distruzione, dove c'è paura, dove i bambini piangono, dove ci sono morti, dove ci sono feriti. Allora pensare di ascoltare anche adesso i politici, tra l'altro c'è da chiedersi ma perché si parla solo della Nato e dell'ONU non parla più nessuno, dove è finita l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, è davvero il, non lo so, il dissolvimento anche della politica, così come sentire alcuni politici che dicono gliela faremo pagare, ma poi si sa che la guerra è fatta da persone che si conoscono e non si uccidono e la fanno fare a persone che non si conoscono e si uccidono e non sanno neanche il perché. Quindi vedere anche alcuni politici, anche nostri, con la giacca e carovate che dicono gliela facciamo pagare a Putin, eccetera, eccetera, vuol dire fare guerra, vuol dire di nuovo andare avanti su questa strada. Ecco, allora c'è molta amarezza, per questo condivido con voi ancora quello che avevo mandato in onda martedì nel telegiornale e poi ritorniamo un momento a riflettere ancora. Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Chi era la vanone che cantava tanti anni fa? È uno di quei giorni che ti prende la malinconia. Ecco sì, sono giorni di tristezza, di dolore, di paura, di preoccupazione, perché uno pensa, dice, ma come nel 2022 ancora con le prospettive di guerra in Europa, con una conseguenza che non riusciamo a immaginare. Vediamo immagini, carriarmati, navi, incrociatori, bombe, missili, bombe nucleari. Io sarò anche a Roma perché sabato mattina abbiamo un convegno con le associazioni cattoliche per dire no alle bombe nucleari anche in Italia. Ecco, in questo scenario prevale la tristezza, il dire guarda con tutto quello che cerchiamo di fare, guarda cosa succede. Poi c'è anche il sorriso beffardo di chi dice ah ecco dove sono i pacifisti adesso che c'è questa situazione, fa soffrire perché ti ferisce un po'. Però magari è anche uno stimolo a essere umili e dire dobbiamo fare di più per la pace. Certo, alzano la cresta in questi giorni quelli che hanno sempre sostenuto che bisogna spendere i soldi per la guerra, per le armi. Non dimentichiamo che l'Italia spende 40 mila euro al minuto. Nel mondo ogni anno si spendono 2 mila miliardi per le armi. Cosa dobbiamo dire? Che hanno ragione loro? No. Noi continuiamo a dire rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza. Qualcuno dice eh ma tu lo dici sempre, è in televisione, è da anni, è su Facebook, in tutte le occasioni parli sempre solo di pace, di armi e di guerra. Certo con Paschristi, con tante altre associazioni e persone sono contento che mi venga rimproverato di parlare sempre di pace, perché questa è la strada che dobbiamo percorrere. Anche se a volte si viene derisi, anche se quelli della guerra magari dicono questa è la strada che dobbiamo percorrere per ristabilire la giustizia e il diritto. Ecco sì, il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla proprio questa mattina del 24 scrive abbiamo preso dell'avvio dell'attacco delle forze armate russe e l'Ucraina, gli scambi diplomatici, le tensioni al confine tra i due paesi che abbiamo seguito in queste ultime settimane, così con tanta pressione, si sono dunque tramutati in una guerra aperta sul campo. Invito le nostre comunità, scrive il vescovo Brambilla, a pregare per tutte le popolazioni coinvolte nel conflitto durante le messe di domenica prossima, 27 febbraio, invocando il Signore per la pace in Ucraina. La nostra preghiera sia anche un segno di vicinanza alla numerosa comunità ucraina presente in diocesi e alla parrocchia della Natività di Maria Vergine presso la chiesa del Carmine a Novara, che appartiene all'esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini residenti in Italia ed è retta da Don Yuri, che da tanti anni svolge il suo ministero nella nostra diocesi. Tra l'altro Don Yuri è stato intervistato anche nel telegiornale del VCO proprio di giovedì sera. Voglio inoltre, conclude il vescovo, riproporre a tutti e con forza l'appello di Papa Francesco a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno e preghiera per la pace. Ecco, lo raccogliamo questo per domenica, poi vedremo anche come preparare bene il 2 marzo, che è l'inizio della quaresima, il digiuno, la preghiera. Davvero per i credenti diventa la forza fondamentale, perché quando le bombe, scriveva questa mattina Tonio Dell'Oglio, quando le bombe fanno rumore e le esplosioni urlano l'oddio, a nulla serve gridare più forte, imprecare, elevare la voce. Quando la politica, il dialogo e la diplomazia cedono il passo allo Stato Maggiore, alla tattica militare, le parole, le dichiarazioni tardive, le buone maniere non fermano la distruzione. Insomma, la guerra si vince sui decibel, la pace è questione di silenzio. Per questo serve qualcosa di più profondo, piuttosto che di più urlato. È il tempo del silenzio che si fa preghiera, come le lacrime e il dolore delle vittime. Ecco, allora ci lasciamo così, io sono in partenza per Roma, sabato mattina, chi vuole sul canale YouTube di Pax Cristi può seguire questo incontro sulla presenza delle armi nucleari in Italia, chiediamo che vengano tolte. Ecco, credo che sia un impegno importante per evitare che questa escalation della guerra non arrivi anche a coinvolgere l'arsenale nucleare, sarebbe davvero la distruzione di tutto. Vi lascio per due o tre, quattro o cinque secondi questo breve video e poi quando pensiamo al fascino dell'aereo da guerra, ricordiamo questo video, noi ci salutiamo anche a nome di Don Giorgio e Don Angelo e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti.